Ciao, io sono founder president di questa nuova piattaforma social che si chiama CamTV. Che cosa mi ha entusiasmato? Che cosa ha fatto sì che io mi avvicinassi oltre alle belle persone che ne fanno parte, che ne facevano già parte, che quindi hanno fatto in modo che mi rendessi conto che era una cosa seria? Proprio la libertà. Io sono una persona che ha sempre amato la libertà sotto tutti gli aspetti e quindi il poter avere la libertà di condividere quello che so, che ho studiato su una piattaforma che può tornare utile anche a tante altre persone è quello che mi ha affascinato di questo nuovo progetto. Io purtroppo sono di una generazione non molto tecnologica e quindi ho qualche difficoltà anche se mi sono impegnata e devo dire che sto diventando bravina anche con la tecnologia e quindi un'altra cosa che mi ha affascinato è il fatto che mi sembra di entrare un po' nel futuro. Mi sono resa conto che questa è una cosa che ci toccherà, che toccherà tutti quanti nel futuro e purtroppo chi non la vede avrà dei problemi da qui in avanti. Quindi io mi sono avvicinata e sono entrata con entusiasmo proprio in questa piattaforma social perché trovo che sia veramente l'espressione di qualche cosa che deve ancora succedere ma che succederà sicuramente.